C'è chi so... Facciamo un applauso in altre parole. Credo che questa sia l'unica televisione in Europa che parla di Epicuro. Perché sono in Europa? Stavo di essere venuta in una trasmissione seriosissima. Sei quello che dà felicità al mondo. La vita! Gramellini, va bene? Gramellini, va bene? Facciamo dei sogni. In altre parole, ancora. Sabato, alle 20.30, sulla 7. Felix, it's great to be a cat, con Robbie Williams. The life of a cat is so lovely. And each day Felix appears. I'm certain that it's great to be a cat. Felix, furina. Nuova Yaris Hybrid. Oggi, anche con motore da 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 19.950 euro per tutti. In più, fino a 3.000 euro di bonus in caso di rottamazione, grazie agli eco-incentivi statali. È vero, non pensavo mi servisse Swiffer. Finché non ho visto con che facilità raccoglieva i miei capelli dopo averli asciugati. Wow, cattura pure i suoi. E basta un minuto. Guarda qui, non posso più farne a meno. Swiffer, se lo provi ti cattura. E con Swiffer usi solo la metà dei panni. Risparmia panni con Swiffer. Corri da Troni, cambia TV, fai golla. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV LG OLED Evo 48 pollici, tuo a soli 999 euro. Troni, non ci sono paragoni. Hai visto l'annuncio su casa.it? Sì, bella, ma vorrei un giardino un po' più grande. E il garage. Una stanza per me c'è? Giusto. Che cosa disegni, amore? La nostra casa. La casa che cerchi è su casa.it Vuoi sapere quanto vale la tua auto? In modo facile e veloce online? Inserisci i dettagli della tua auto su NoiCompriamoAuto.it Non ti daremo solo una stima, ma il prezzo di vendita. E dopo un breve check in filiale potrai venderci la tua auto. Scopri il tuo prezzo ora su NoiCompriamoAuto.it Abbiamo amato il bianco di Dash sin da bambini. Lo abbiamo vissuto in famiglia ogni domenica. E ci ha reso impeccabili. E anche adesso che la famiglia si è allargata, Dash è sempre con noi per darci solo il suo meglio. Dash, da sempre. Più bianco non si può. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ci sono cose che definiscono chi siamo. E la protesi dentale non è una di queste. Con Cookie Dental Ultimate puoi avere una barriera che aiuta a prevenire che i tuoi cibi preferiti si infiltrino sotto la protesi. Una tenuta più forte per continuare a seguire le tue passioni. Un comfort che dura tutto il giorno. Cookie Dental. Bello a mordere la vita. Quando stai bene nella tua pelle non conta cosa indossi o quante ore hai dormito. Per questo Leocrema ha pensato una nuova formula che idrata fino a 48 ore. Perché tu possa stare bene nella tua pelle. Ancora di più. Leocrema. Amati nella tua pelle. Prova anche i solari Leocrema. Tripla protezione dal sole per tutta la famiglia. Da Arredissima la progettazione è gratuita e la garanzia è di 5 anni. Garantitissima. Garantitissima. Design e qualità tutta italiana. Italianissima. Italianissima. Arredissima. Dov'è la vita? È issima. Paghi nel 2025 in 24 rate ad interessi zero. Parole, parole, parole. Parlarne è importante. Uh, altre parole. Vogliamo un pianeta più verde? Ce li siamo. E allora dobbiamo condividere le nostre idee. Basta parlare. Qualcuno deve fare qualcosa. Scusi. Un solo pannello solare. Ma veramente? Dovreste riempire tutto il quartiere. Sì, lo stiamo già facendo. Noi di E.ON abbiamo installato 47.000 impianti solari e sistemi di accumulo. Far funzionare una nuova energia. IZONAS. E.ON. Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi. Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5. Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi. Dolori articolari e muscolari rilevati. Anche a stomaco vuoto puoi provare Flector Go. Capsula molle. Piccola e facile da deglutire. Rapida contro il dolore grazie al suo principio attivo liquido. Flector Go. Immissione contro il dolore. Dalla ricerca Ipsa. Chilo Calmagra. Utile nel trattamento di sovrapeso per ridurre la circonferenza addominale in aggiunta a dieta e movimento. Chilo Calmagra da Full Pharma. Guizza. Purezza e trasparenza. In un'acqua oligominerali tutta italiana. A un prezzo che ti sorride. Guizza. Fantastica. Guizza. Guizza. Guizza.